E adesso quanti soldi devo spendere? Sono Pazzox e ben ritrovato in questo nuovissimo video. Oggi voglio mettermi alla prova. Devo valorizzare tutti i miei soldi spesi per tutti questi anni. Il mio obiettivo è quello di riconoscere le skin. Ovviamente non scappate voi. Anche voi dovete essere in grado di riconoscerle. E se non indovino la skin dovrò ricaricare il mio account di 1000 VBAC. Certo che mi voglio proprio male eh. Ma prima di vedere quest'uomo soffrire ricordate di iscrivervi al canale. Ma soprattutto inserisci il codice Pazzox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. Ed eccoci qua. Siamo sul sito Fortnite GG e c'è questo gioco del quiz. Quello di indovinare appunto le skin. E dato che io gioco dal 2017 non ne dovrei sbagliare neanche una. Concentrazione. E concentrazione anche voi eh. Perché se sbaglia e indovinare skin dovrai scriverlo qua sotto nei commenti. Ok iniziamo. Dominatrice del derby credo. Ok meno male subito difficilissima. Questa la so. Questa è. Questa è. Oh mio dio. Questa è stella. È stella. Ok. Lui è lo doga. È facilissimo. Brat. Questo è un super. Questo è di film. Questo è grande volt. Meno male. Ah questo è Lars. Questo è facilissimo. È terra. Terra. No. Come la Bob. No. Ho 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 ho. Io non ci posso credere. Mi tocca ricaricare mille di back. Ah. È così. È così. È così. È grazie. Ed ecco i back che salgono. Ok. Ok. Pazzox non sbagliare più ti prego. Ok. Lei è facilissimo. Costume Black Widow. Beast Boy. Boh no. Quando mi dà questi tizi. Quando mi dà questi tizi che fastidio. Tripla doppia. Ok. Lui dovrebbe essere quello lì che assomiglia un po' a Mida ma è un altro. È Renuvo. Ok. Lui è Gilda. 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 Ah. Beh. Questo è facilissimo. So che ho il tempo e mette ansia. Ma questo è facilissimo. È chiaramente Shifu. No. P1000. Allora. L'arena. Dolph. Ok. Siamo a livello 8. Questo è un tizio del football. Si chiama Intercettato. No. No. Dai. Ma io non ci voglio credere. Altri mille V-back. Concentrazione. Eh. Esperto ricognitore. Benissimo. Ah. Bellissima lei. Oceania. Oceania. Con calma Pazzo. Senza troppa velocità. Lei è. Oh mamma. La stella del Sint. Ok. Eh. Cracabella. Cracabella. Lui è Lama. E si chiama Bash. Oh. Ma io è caposquadra. Quanto tempo. Caposquadra. Mamma mia. Uno dei primi personaggi delle stories. Se non la indovinate voi questa. Cioè. Vai calamiti. Oddio. Questa ce l'ha. Gualti. E credo che sia peschereccio abissale. Meno male. Stavo per mettere. Oh. Oh 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 oh. Fiaba. Aspetta sì. Sì è fiaba. È fiaba. È fiaba. Meno male. Meno male. Livello 11. Re dei ghiacci. Eh. Lei è. 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 Colpo di frusta. Sì. Sì. Oddio. Questa è una di quelle ballerine. Credo dissidente melodico. Meno male. A lui. Testa addosso. Mamma mia. Eh. Lei è squadra sub. Veramente facile. Facile. Questa è quella di The Walking Dead. Si chiama così giusto? Penso di sì. Non credo che si chiami Valkyria. Ok. È cecchino spirito o squadra tecnica? Però se ho quell'outfit sono un cecchino. No è una squadra tecnica. Il mio obiettivo è quello di arrivare al livello 30. Altri mille V-Buck. E niente. E siamo a 4830 V-Buck. Super concentrazione. Pazzo. Basta. Basta sbagliare. Soldato ne vischio. Lui è ipernova. Perché me l'ha regalato Gualti. Grazie Gualti. Mi ricordo. Il cacciatore dei cieli. Ah. Lui. Lui è quello dei plus. Pattugliatore di zona. Mamma mia. Meno male che mi ricordavo. E Maya. E Maya. Sì. Questo è quello lì. Snowboarder. Orin. 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 E Aurelia. Ok. Lei è Cavalire Eterno. Sì. 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 È lei. È lei. Di nuovo Raz. Ok. Grazie Raz. Victoria Saint. La cacciatrice di vampiri. Laureonata. Ok. Sì. Lui è Centurione. Lo starter pack. Credo sia Ravina. Non credo Guan Yu. Ok. Lei non ce l'ho. Ah. Lui è Major Laser. Oh no. Quelli del calcio. Impenetrabile. Sì. Meno male. Meno male. Il bombarolo brillante che non è mai uscito. Oddio. Lui non ce l'ho. Se vado. Per esclusione. E che lui è un robot. Lock bot. Ok. Sempre centro. Quella posa non la dimenticherò mai. Vai Sion. Ero 22. C'è una bruna d'altricerato. Ma poi che era facilissimo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Siamo a 5000 V-Buck. Perché ho voluto fare questo video? Lei è l'agente biologico. E uno. Forfante. E due. Percursore radioso. Ah è Black Widow. La skin di Monkey Simon. Il tizio senza pass. Speciale riconitore. Black Panther. Oh mio Dio. Quando escono loro. Ok. Touchdown. Meno male che c'era un nome semplice. Leviatano. Laguna. Laguna. Che bella che è questa skin. Mamma mia. Mamma mia. Perché non lo sapevo. Non lo sapevo. Specialista riconitori e torre. Mamma mia. Una delle primissime skin. Artigliere Bruto. Bella skin. Guerriero del mondo. Perché è quella della World Cup. Mamma mia. Queste traduzioni orribili. Ghost Rider. X. 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 Shogun. Ok. 18. Cuore nero. Dai dai. È super riconoscibile lui. 19. Oddio. O soldato delle profondità o massacro. Soldato delle profondità. Meno male. Lei è... Glow. 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 21. Lei è quella di autunno. Quindi la regina d'autunno. Cavaliere eterno. Grazie per essere tornata. Buca. È l'unico con la coppa in mano. Pombarolo brillante ancora. Perché sono 25. Lui è... Il soldato Sith. Frittella. Quanto è bella questa skin. Oh no. Intercettatore. Ok. 28. Faison. Me la sono ricordata. Incubanni. L'ultimo. Oh no. No. Mi svole perché lei vola. No. L'ultimo. Proprio all'ultimo dovevo sbagliare. Perché ho pensato a volare. Vole. Vole Vuppate. E si ricarica. Guarda i V-Buck. I V-Buck come salgono. Basta pazzo. Basta. Marigold. Ok. Lui è il leader squadra Mecha. Lei è Meshpoint. Lui... Chiave Master. Lui è percorsore stradale. Ok. Specialista ricognitore. Mida di mezz'estate. Lei è ballerina... Dynamo. Fixer. Ok. Quello del plus. Vendetta. Lunchland. Dominatrice del deserto. Uff. Memoria. Cuor di pietra. Dai, suonando benissimo. Lei è il sergente decorato. No. Artiero e lo zenzero. Stavo per sbagliare. Specialista delle scintille. Ricordo la posa. Uomo caramella. Anche se la traduzione è sbagliata. Questo... Sink. Quindi credo che sia lui. Ok. Livello 20. Oblio. Bellissima skin. Chiere... No. Laguna. Lui è denti. Ok. La spaventa passeri. Livello 24. Furia. Lui è furia. 26. Non sbagliare adesso. Ranger del replay. Mamma mia. Stavo per mettere Demi. Gun. È gun lui. Ok. 28. Fortuna. 29. Lei è... Tenente. No. Più di piatti. Mi stavo per fregare. Più di piatti. Si vince. È livello 30. Falena. Commando. Adesso si va a ultranza. Adesso se sbaglio non fa niente. Cioè ho vinto. Ho vinto. Lui è freccia verde. Vediamo fino a quanto riesco ad arrivare. Lui è sostenitore simbolo. Maledetti voi. Lui è Kenji. Spina d'amore. Sto andando velocissimo. Ludwig. Cintaro estremo. Palla 8. Lui è il... Attentuatore. Nome. Lei è Jules. Lui è Uragano. Livello 41. Mandaloriano. Perché non avevo questa concentrazione prima? Mannaggia. Lui è... Cyprus. Ok. Mi ricordavo bene. Lui è Beastmod. Il... Sergente Spazzata. È l'unico... Brigata. Cammy di Street Fighter. Ah. Apri pista. Ok. Goldie. Deathstroke. Livello 50. Rey. Di Star Wars. Ma... Come ho fatto a sbagliare prima? Ventura. Tutte skin che conosco. Guardate sta uscendo. Eh... Serra. Attigliere l'orturno. Sono a livello 50. Eh... Ragnarok. Non mi fermo più. Non mi fermo più. Scienziato. Eh... Quello zombie. Milite. No! No! Era senza anima. Dovevo pensarci. Eh vabbè. Vabbè. Sono arrivato a livello 56 però. E calcolando che prima avevo 1000 V-Buck. Quindi ho fatto 5 errori e 5 ricariche di 1000 V-Buck. Adesso siate sinceri voi. E quante ne avete sbagliate. Ma soprattutto partecipate anche voi. Senza ricaricare i V-Buck. Trovate il link in descrizione. E anche nel commento in primo piano. Vi ricordo di iscrivervi al canale se nel caso non l'aveste ancora fatto. E ricordate di sopportare il codice Pazzox. Perché ho speso veramente tanto. Noi ovviamente ci vedremo molto presto. Con l'ultima storia di questa stagione. Con un dolcissimo e carnissimo. Eh eh. Noi ovviamente ci vediamo. 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 Grazie.